Signore Dio, nostro Creatore e Salvatore, grazie per avermi dato l'opportunità di conoscere la confraternita comunione dei Santi e di scrivermi. Aiutami a contribuire anche personalmente alla promozione di un'autentica vita cristiana nella preghiera, nella frequenza ai sacramenti della riconciliazione dell'Eucaristia nel buon esempio quotidiano. Fa, o Signore, per intercessione della Regina della Pace, di San Giuseppe, del Beato Carlo Acurtis e di tutti i Santi, che io sappia discernere ciò che a Te piace nei miei pensieri e nelle mie opere, affinché siano secondo il Tuo volere. Aiutami ad essere riconoscente per tutti i doni che mi hai allargito e che mi stai dando ed anche per le grazie che ricevo in virtù delle preghiere degli altri fratelli e sorelle della confraternita comunione dei Santi a cui appartengo. Desidero anch'io pregare ogni giorno per tutti i membri della confraternita e per l'umanità intera, offrendo anche qualche sacrificio personale quando posso. Aiutami a mettere in pratica il Vangelo, Signore, e ad essere solidale verso le esigenze spirituali e corporali del mio prossimo. Amen. Caro Pierangelo, invoco senz'altro la benedizione del Signore Gesù per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe su questa iniziativa che mira a portare beneficio spirituale a coloro che vi aderiranno. La comunione fondata sulla reciproca preghiera è sempre molto efficace. Mi tenga informato su come si sviluppa la confraternita. Le auguro un santo Natale e mi affido la sua preghiera. Si chiama Confraternita Laicale Comunione dei Santi, l'associazione religiosa laicale che raccoglie tutti i credenti in Cristo nel mondo che si iscrivono al canale Universo Interiore PIPR e che intendono dedicare alcune loro preghiere a tutti gli iscritti e beneficiare delle preghiere di ogni membro. Scopo principale è quello di promuovere un'autentica vita cristiana degli associati ad imitazione di Cristo, ognuno nella sua mansione e nel suo ruolo sociale di appartenenza. A tale proposito, la visione di ogni brevissimo video condiviso ha lo scopo di orientare ed esortare alla riflessione ed alla meditazione personale sulla vita spirituale cristiana ogni fruitore. Sostenere con la preghiera tutti i membri che si iscrivono al canale. Gli organi di collegamento tra la gestione web della confraternita e gli iscritti sono il canale YouTube Universo Interiore PIPR ed il sito www.mondocrea.it. L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata durante la visualizzazione di ogni video del canale YouTube Universo Interiore PIPR. Tutti gli iscritti beneficiano delle preghiere di ogni membro in virtù della comunione dei Santi. Il curatore, e chi lo desidera, si impegna a partecipare quotidianamente alla Santa Eucaristia, se possibile, raccomandando al Signore ed alla Regina della Pace tutti gli iscritti della confraternita. Per iscriversi esplicitamente alla confraternita basta aprire un video del canale e cliccare su Iscriviti. 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 Grazie a tutti